Poi una parte invece su quello che si può immaginare essere un testino. Stai facendo una foto in bocca? Stai facendo una foto in bocca? Ah sì. Non immagino con la staffa dietro. Ma con la mano sua non mi riconosce. Non so, non mi riconosce. Non mi stai facendo un mezzo.